Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il bivio con la 11 e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo a Siena-Firenze in direzione Firenze per lavori e entrata chiusa a Badesse e scambio di carreggiata tra i chilometri 4,800 e 7,800 tra Badesse e Monteriggioni. Sulla statale 62 della Cisa, corsia chiusa per lavori tra Pontremoli e Villa Franca in Lunigiana in direzione Sarzana. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo possibili disagi in zona fortezza per gli eventi legati a Pitti Immagine Uomo. Tutti i dettagli e il piano mobilità del comune sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!